Con la produzione delle pillole, la società d'Antarieri ha avviato un progetto di carattere nazionale e internazionale per la diffusione della cultura italiana nel mondo. Si tratta di un progetto al quale hanno aderito i maggiori studiosi nelle varie materie e parlo dell'arte italiana, di Dante, della letteratura, della moda, del cinema, della storia. Sono brevi filmati di 5 minuti ciascuno per 10 lezioni con cui lo studente, l'interessato, l'amante della nostra cultura può approfondire i grandi temi che noi sappiamo essere temi universali e che la Dante diffonde in Italia e soprattutto in tutto il mondo. Buona visione e buone pillole di cultura a tutti!